Stiamo cercando la mamma e le facciamo una sorpresa. Abbiamo visto la macchina parcheggiata nel parcheggio del Tigros. Vai, cerchiamola, cerchiamola. Andiamo a vedere come sono i sofficini. No, questo si è rotto. Sono anche io? Ma no, è vuoto. Devi prendere uno più pieno. I sofficini, com'è, com'è i sofficini? Soffia e, occhio a mamma, numero uno, grande.